Questi giorni in Aulea Giulio Cesare si discute la delibera svendipatrimonio, la delibera 88. Che cosa sta succedendo? In verità Marino vuole fare cassa vendendo o meglio svendendo una parte di immobili di Roma Capitale. Immobili sia destinati ad uso residenziale sia ad uso commerciale. La particolarità di questo provvedimento è innanzitutto che questi immobili vengono venduti agli occupanti i quali anche da decenni non pagano i relativi canoni di locazione e parliamo di canoni anche molto bassi, 40, 20, 30, 70 euro e il Comune non si è mai premurato di riscuotere quei crediti. Inoltre invece di punire questi morosi il Comune li premia regalando questi immobili sostanzialmente a un prezzo molto inferiore di quello di mercato o per di più ribassato del 30%. Ora, i normali cittadini che non ce la fanno ad arrivare a fine mese e che pagano costantemente tasse e tariffe che a ogni bilancio vengono aumentate, sinceramente hanno necessità che il Comune quando è creditore riscuota puntualmente tutti i crediti perché i servizi che ci vengono costantemente tagliati e parliamo di scuola, parliamo di assistenza, assistenza domiciliare, assistenza agli anziani, assistenza ai disabili ma anche per esempio un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, parliamo anche del rifacimento delle strade dei servizi del verde, parliamo di tutto quello che a noi cittadini manca ebbene noi soffriamo nel vederci costantemente e opporre la ragione che non ci sono risorse quando in realtà le risorse ci sono e se ne sprecano tante. Questo è uno dei motivi per i quali ci opponiamo fortemente a questa delibera porcata. Noi stiamo scoprendo tutto questo da quando siamo entrati nelle istituzioni e quello che facciamo ovviamente, opponendoci a livello istituzionale è anche cercare di trasmettervi e di informarvi in modo che anche voi possiate partecipare vi invitiamo davvero a partecipare, a venire, venite in Commissione, venite in Consiglio facciamogli sentire il fiato sul collo, facciamo sentire a questa amministrazione che i cittadini sono presenti e vogliono partecipare. Grazie per la visione!